Scade alle ore 12 del 15 settembre il bando per sette borse di studio Tina Anselmin, detto dalla CISL Venezia, a cui possono partecipare solamente donne laureate in discipline STEM, scienza, tecnologia, ingegneria, informatica e matematica, che siano residenti o domiciliate nella provincia di Venezia. Il valore di ciascuna borsa di studio è di 1.500 euro e saranno assegnate da apposite giurie con l'obiettivo di formare persone preparate e specializzate, indirizzate verso lo sviluppo di nuove tecnologie, nuovi prodotti, cercando soluzioni per importanti tematiche. Condizioni per partecipare, aver conseguito la laurea triennale o magistrale fra il 1 gennaio del 2022 e il 31 luglio 2023, in qualsiasi ateneo italiano o straniero e non ci sono limiti di età, ma la tesi portata deve aver sviluppato temi riguardanti innovazione e tecnologia. Quattro borse di studio saranno messe a disposizione da CISL Venezia, mentre altre tre saranno finanziate da Gasparini S.p.a., San Benedetto Scorzè S.p.a. e Umana S.p.a. Qui abbiamo delle cozze alla tarantina, cozze con il pomodoro, già così in vaschetta, già pronto, sono state messe dei crostini che è un tipico piatto italiano e del prezzemolo che dà un senso di freschezza e per il periodo estivo è un ottimo antipasto.